Benvenuti a tutti. Oggi in un piccolo grande paradiso, un grande paradiso. Oggi sono qui ai piedi del Monte Bianco a Comaniero Valle d'Aosta. Sono in un parco di Comaniero. Andiamo a visitarla. Le temperature sono sempre più o meno quelle della città. C'è la gente. Sveggiata. Forse è una montagna alta. Questo cuore è il Monte Bianco. È una zona di corte. Non riesco a riprenderlo. Andiamo se riesco a concludere. Allora... Ecco... Ci sono un monte... Per un cielo di città. Sembrava quarentino. sul metro e il ralentino. E... C'è la scala della stagione. Pazzo Bodina. L'istro di città. C'è la scala di un holla. C'è la scala di un'attività. Non c'è farlo, non c'è farlo, non c'è farlo, non c'è farlo. Non c'è farlo, non c'è farlo. Non c'è farlo, non c'è farlo, non c'è farlo, non c'è farlo. Non c'è farlo, non c'è farlo. Non c'è farlo, non c'è farlo. Non c'è farlo, non c'è farlo, non c'è farlo. Non c'è farlo. Non c'è farlo.